Questa è l'interno di una unità di scannere di laser del laser. È la parte reale del laser del laser. La unità di scannere genera il laser beam che è l'opc drum, creando l'immagine del tex. La unità di scannere riceve il dato dal controllo, poi emite un laser beam. Il laser beam passa per un lenzio e è un mirro rotato. Il mirro rotato riflessa il mirro sulle parti varie parti della superficie dell'opc drum. Un mirro per ogni piccolo dot che fa il tex e le immagini. Questo glace non è lì solo per protezione. Compensata per l'immagine distorsione causata dalla distanza varie tra il mirro e i punti sul drum. E' ancora un pianto. Spezia di cerchino di armi sono legato un nuone. E' ancora un pianto di calciareni. Se lo scendere è ottamper il risultato. Per quanto riguarda i calciaresi, il ciò che può essere stendere di un pescollo. E' ancora ancora un pianto di terzo di metodo. E' ancora una maniera di calciare senza sono belli. E' ancora un pianto di calciare i calciane di calciare di calciare. Grazie per la visione!